Seconda parte del nostro appuntamento con 91esimo minuto è il tempo di parlare della Fossil Cup categoria allievi classe 2005-2006 altri sedicesimi di finale altri MVP partiamo con altri quattro ragazzi proprio protagonisti MVP delle ultime gare partendo con Leonardo Andrejc dello Zola. Ciao Leonardo benvenuto. Andiamo dall'altra parte con Nabil Sellum del Fraore. Insieme a noi Luca Quittadamo al mio fianco centrocampista offensivo dello United Carpill. Ciao Luca benvenuto. Ciao grazie. E anche benvenuto a Nicolas Sabatini centrocampista del Persicet 85. Ciao Nicolas benvenuto. Ciao grazie mille. Allora facciamo un passaggio proprio partendo da Leonardo Andrejc centrocampista centrale dello Zola Vredosa società che ha vinto 3-0 contro il Valsa Savignano. Non hai segnato gol però sei stato il migliore in campo quindi direi che comunque è stata una partita bella ma soprattutto è bello vincere il derby? Beh vincere è sempre bello piace a tutti poi penso che questa vittoria sia arrivata in un momento importante per noi perché veniamo da un periodo in cui a causa del covid abbiamo avuto molti assenti e per tutto il mese di gennaio infatti ci siamo allenati sotto un numero di 10 giocatori quindi eravamo molto pochi e questa vittoria ci è servita per riacquistare fiducia in noi e nelle nostre capacità. Leonardo parliamoci chiaro siete la favorita tra le favorite del torneo la sentite un po' questa pressione si sente anche nella categoria 2005 una certa pressione di dover vincere questo torneo? No no non sentiamo nessuna pressione anche perché la società non ci ha imposto diciamo la vittoria del titolo abbiamo noi questo obiettivo e ci fa piacere andare avanti in questa competizione ma non sentiamo alcuna pressione. Ti fa piacere però che gli altri considerino un po' di considerino un po' ci dà la carica per affrontare le partite con più voglia e più determinazione. Leonardo il tuo idolo? Il mio idolo Zlatan Imraimovic anche se giochiamo in ruoli diversi ma vedo in lui una grande mentalità e una grande personalità dentro e fuori dal campo e per questo è il mio idolo. Abbiamo qualcosa in comune io e te ma poi ti spiego bene perché anch'io con Zlatan mi piace molto. Nabil Selum benvenuto ancora a 91esimo parliamo proprio del gol che ha dato il via alla rimonta del Fraore contro il Fiorano perché in dieci minuti siete passati dallo 0 a 2 al 3 a 2. Sì, siamo usciti in campo con una mentalità tranquilla e poi dopo il secondo tempo il mister ci ha dato la carica giusta per ritornare il secondo tempo più aggressivi e siamo usciti dal campo vittoriosi. Sei soddisfatto però di aver fatto un gol e c'è anche lo zampino negli altri due se non sbaglio. Esterno e trequartista del Fraore gli piace puntare l'uomo e manovrare in costruzione nella parte offensiva ti ci rivedi in queste caratteristiche. Dove sogni di vederti calcisticamente parlando in che stadio? Speriamo in alti livelli stadio qualsiasi. C'è uno stadio particolare che ti piace? No, no. No, ok. L'importante è arrivare e ti piacerebbe arrivare in alto chiaramente ecco. Andiamo anche con Luca Quittadamo dello United Carpi. Benvenuto Luca, centrocampista offensivo, lo abbiamo presentato in precedenza e ha dato un contributo, dopo vi racconteremo anche come, anzi ve lo racconterà Luca, nella vittoria per 6-0 dello United Carpi contro la Rubierese, classe 2005, leggo testuali parole, ha realizzato un gol giudicato dagli addetti ai lavori, uno dei più belli della competizione. Raccontacelo. È stato uno stop di petto ricevuto da un compagno di squadra di nome Leslie e l'ho messa giù con il tacco mi libero di uno degli avversari e in una frazione di secondo ho tirato anche se era molto lontano e è nato in gol. È stato bellissimo che tutti i compagni mi hanno abbracciato. Venti Luca, cosa hai pensato dopo che hai segnato il gol? O se ti ricordi anche cosa hai pensato proprio mentre stavi facendo questa azione? Ho pensato che era obbligatorio andare negli spogliatoi con almeno 2-0 e dovevamo farne altri, infatti dopo abbiamo aumentato. Il divario l'avete portato a casa sicuramente, avete vinto 6-0, quindi questo sicuramente l'avete portato a casa. Invece tra i dirigenti cosa ti hanno detto? United Carpi, immagino che comunque sia una società alla quale tu sia anche affezionato. Sì, hanno un po' scherzato dicendo che è uno dei più belli del torneo, però comunque l'hanno presa molto sul ridere dicendo di far bene, che comunque se uno si impegna può venire tutto quello che vuoi. Beh direi che comunque hai sicuramente una bella testimonianza il fatto che comunque loro magari te l'hanno detto scherzano, ma secondo me lo pensavano anche loro, che possono essere i più belli chiaramente della competizione. Per quanto riguarda il tuo gol, ha segnato un gol Nicola Sabatini nel Persiceto 85, centrocampista, il suo punto di forza sono i calci di punizione, primo gol su calcio di punizione, quindi direi che è andato tutto bene. Sei ormai di casa poi al Persiceto perché sono 11 anni, dico bene? Esattamente, 11 anni che giochi in quella società, è praticamente casa mia e sto lì quasi tutta la settimana e quindi sì, è casa mia quella lì. Ti trovi bene e ti piace perché è un bel ambiente oppure ti piace perché giochi a calcio? No, mi piace perché comunque il mio sport preferito è sempre stato il calcio e poi il mio ambiente è giusto, quindi sono nato in quella società e lì rimarrò. Allora, calciare le punizioni, immagino che ti piaccia, idolo, perché vicino a Bologna c'è un allenatore che si chiama Sinisa Mijailovic che come punizione, diciamo che quando tirava le punizioni spesso era una sentenza, non so se sia il tuo idolo. No, purtroppo non l'ho visto giocare io Sinisa Mijailovic, però ho visto un altro campione, ovvero Andrea Pirlo, tirare le punizioni e da lui ho preso spunto. Beh, non è che sia andato poi, se tu sia cascato male, ecco tra idoli perché tra Sinisa Mijailovic e Andrea Pirlo, almeno poi dopo Andrea Pirlo a me piaceva tantissimo proprio perché aveva quella qualità proprio a livello di intelligenza calcistica che secondo me era fenomenale, superiore alla media. È il momento di far vedere la maglia, quindi partiamo da te Leonardo, dello Zola Predosa, Leonardo Andrejic, ecco qui la maglia di MVP della Fossil Cup, lo ricordiamo, la partita vinta dallo Zola Predosa contro il Valsa Savignano per 3-0. Leonardo, la tua scuola e il tuo sogno? Io vado all'Istituto Tecnico Salvemini e come sogno può essere scontato dirlo, ma ambisco a trasformare la mia passione nel mio lavoro, ovvero il calcio perché è quello che amo fare e spero che possa diventare la mia professione da grande. L'Istituto Salvemini si trova? A Bologna. A Bologna, ok perfetto, ringraziamo Leonardo per il suo contributo, Nabil anche la tua maglia la vogliamo vedere perché è la maglia di MVP Fossil Cup per Nabil Sellum, anche nel tuo caso Nabil la scuola e il tuo sogno? Faccio l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci a Parma e il mio sogno è diventare, come ho detto prima, ambire in alti livelli e spero di arrivarci. Invece parliamo di Luca Quittadamo che ci fa vedere anche la sua maglia di MVP della Fossil Cup grazie alla vittoria dello United Carpi con la rubirese per 6-0, anche nel tuo caso Luca, scuola e sogno? Io studio finanza e marketing a Carpi, nell'Istituto Meucci e io non ho sogni ma ho obiettivi e il mio obiettivo più grande sarebbe di creare il calcio come se fosse un lavoro, magari ai livelli professionistici. Farsi che il calcio diventi la tua passione e allo stesso tempo il tuo lavoro, direi che mi piace anche proprio l'idea che non ci sono sogni ma obiettivi, bello anche questa tua decisione, ti facciamo un grande in bocca al lupo così come lo facciamo anche a tutti i ragazzi presenti. Nicolas ha anche la tua maglia, ecco la facciamo vedere, MVP dopo la partita lo ricordiamo, vinta dal Persiceto 85 per 3-0 contro il Carignano, anche nel tuo caso Nicolas, scuola e sogno? Io frequento l'Istituto Professionale Commerciale Marcello Malpighi di San Giovanni in Persiceto e il mio sogno è di rimanere nell'ambito calcistico o come calciatore o comunque allenatore o preparatore atletico. Diciamo che il calcio vi accomuna proprio anche nei vostri sogni e nei vostri obiettivi e questo sicuramente è molto positivo, vi facciamo un grande in bocca al lupo con la speranza chiaramente che tutti voi possiate raggiungere i vostri sogni e i vostri obiettivi. Noi ringraziamo Leonardo Andrejce della Zola Predosa, grazie Leonardo per essere stato qui con noi a 91esimo. Grazie a te. Grazie a Nabil Sellum della Fraore Noceto, grazie per essere stato qui con noi a 91esimo. Grazie a Luca Quittadamo, centrocampista dello United Garpi per essere stato qui con noi, grazie Luca. Grazie a te. E grazie a Nicolas Sabatini, centrocampista del Persiceto 85 per essere stato qui a 91esimo minuto. Grazie a te. Io vi ringrazio anche a voi per averci seguito, adesso un piccolo stacco pubblicitario, poi la terza parte di 91esimo minuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.